che cosa utilizzo io per caricare gli mp3 delle canzoni su moisis per poi togliere il basso o comunque fare quello che voglio ti faccio vedere la mia esperienza o spero che possa tornare utile anche a te allora vado a prendere il link di youtube della canzone lo copio poi vado ad aprire questo video to mp3 converter punto com secondo me questo video affidabile almeno io li prendo tutti da da qua praticamente vado a incollare il link se ti escono fuori dei pop up altre cose io ti consiglio con chrome ci sono degli anti pop up che sono utilissimi infatti da quando ho installato quell'estensione non ne vedo più e tra l'altro non mi fa neanche vedere le pubblicità di youtube attenzione consiglio clicco qua youtube convertire lui me lo va a convertire mi sceglie mi fa scegliere mp3 mp4 quello che voglia me serve l mp3 faccio scarica va a lavorare un po sopra poi lo posso me lo fa il download e vado a caricarlo direttamente su moisis spero di esserti stato utile mi raccomando clicca mi piace qua sotto se hai qualche domanda fammela pure e condividi il mio lavoro perché per me è importante ciao a presto ciao a presto